E' iniziato il conto alla rovescia per Barletta di sfida, opera viva! L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale barlettana e dalla Regione Puglia per celebrare il 518esimo anniversario della storica contesa tra cavalieri italiani e francesi. Sentiamo. In occasione del 518esimo anniversario della storica contesa tra cavalieri italiani e francesi è stata presentata a Barletta di sfida opera viva, l'iniziativa promossa dall'amministrazione barlettana e dalla Regione Puglia. Dopo la sosta forzata a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, questa parentesi di fine estate raccoglierà numerosi appuntamenti con l'obiettivo di coinvolgere e rilanciare il territorio sul piano culturale. Una storia d'amore palinsesto 2021. Si chiama così il programma di eventi dove si esibiranno in una rassegna teatrale nella piazza d'armi del castello Simone Schettino, Barbara Foria e Giorgio Pasotti, rispettivamente il 19, 25 e 26 settembre alle ore 20 e 30. Il gruppo musicale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Ispettorato Regione Puglia, Benemerita, vivacizzerà all'Anfiteatro del Castello dalle ore 20 del 26 settembre, mentre il sound del cantautore Edoardo Bennato si propagherà in Piazza Aldomoro alle ore 21 del 24 settembre. Palazzo della Marra ospiterà infine le giornate letterarie origini il 2 e 3 ottobre, a cura del vice direttore di Rai 1, Angelo Mellone. Balletta di sfida Opera Viva sarà proposta al pubblico nel Teatro Curci il 16 settembre, con repliche il 17 e il 18 settembre. Nelle stesse tre giornate il programma prevede anche l'annuncio dell'Araldo per le vie cittadine, il carosello storico in Piazza Aldomoro e il cambio della guardia dinanzi al Teatro Curci. Per assistere agli eventi occorrerà esibire il Green Pass in formato cartaceo o digitale, unitamente al documento d'identità, eccezione fatta ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti essenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute. Grazie. Grazie.